Pubblico di Melito TV ben ritrovati e naturalmente quando mi trovo insieme qui a Francesca Martino sicuramente una trasferta, cara Francesca, due volte al mese va a parlare di un argomento molto caro in questo periodo, cioè? Andremo alla scoperta delle tradizioni territoriali della Spromonte, quindi un appuntamento da non perdere perché ricco di tante novità. La sala d'arte Le Muse abbiamo il piacere di avere il presidente del Parco Ente Nazionale di Spromonte, il dottore Giuseppe Bombino e l'artista Maria Pia Cristaldi, un artista del carretto siciliano che si è adattata per noi perché ci parlerà di Spromonte nelle portelle, cioè nelle zone molto particolari del carretto siciliano. Grazie a tutti!